allora invito a questo punto tutti i relatori a riattivare le videocamere chi vuole attivarle chi non vuole attivarle nessun problema abbiano pazienza le interpreti l'IS perché adesso faremo domande risposte una cosa importante per garantire una corretta interpretazione l'IS e anche una corretta trascrizione di sottotitoli diamo anche un'istruzione anche a chi si sta seguendo il dibattito in questo caso non ci deve essere sovrapposizione ma ci deve essere una persona parla e poi parla l'altra l'altra persona cosa che dovrebbe essere diciamo corretta non ci dovrebbe essere sovrapposizione ma siamo abituati se in ambito televisivo politico che comunque la sovrapposizione viene fatta io tra l'altro sono uno molto inadeguato perché solitamente mi sovrappongo agli altri cercherò di essere un buon moderatore innanzitutto nella chat di di zoom e nella chat di youtube abbiamo inserito un link che è il link per la rilevazione della soddisfazione o meno relativa a questo evento da compilare e i dati verranno raccolti elaborati da accessible you questo tendenzialmente ci serve a raccogliere indizioni anche per migliorare i futuri eventi abbiamo avuto esperienza sauro lo sa l'abbiamo già fatto con accessibility day e sono arrivati dei ottimi suggerimenti perché come anche come per l'accessibilità anche per l'organizzazione degli eventi e iniziative ci possono essere piccoli miglioramenti continui nella nell'erogazione di questa tipologia di servizi ora se mi vedete saltare con gli occhi con le mani perché passo dalle chat dalle domande di qui alle domande su youtube vediamo un attimo le domande che sono pervenute chiaramente chi vuole porre altre domande lo faccia e via via vedremo di di rispondere allora una domanda che secondo me potrebbero giocarla tra sauro e sabato in che modo l'intelligenza artificiale può contribuire a migliorare l'accessibilità dei prodotti digitali e quali scenari futuri possiamo prevedere rispetto agli attuali metodi e linee guida poi la chiudo io relativo al tema delle future linee guida così parliamo delle vcag 3.0 non so chi vuole sauro o sabato chi vuole iniziare non lo so per me vai pure vai pure diciamo diciamo questo che gli ambiti di come dire gli ambiti di applicazione per una persona non vedente come dire possono essere davvero molto importanti per migliorare aumentare quella che la propria autonomia personale sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista proprio della vita quotidiana insomma della vita di tutti i giorni per esempio in un'applicazione questo per fare un esempio perché poi gli ambiti la fantasia si può scatenare in questo senso ma per esempio un'applicazione molto interessante eh eh che è stata come dire la prima a implementare in qualche modo l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento degli scenari e delle immagini eh la prima che l'ha implementata secondo me in modo eh come dire davvero eh immersivo e anche molto molto preciso è Be My Eyes eh questa applicazione eh che nasce come eh applicazione diciamo come piattaforma che eh come dire mette assieme le necessità delle persone cieche ipovedenti soprattutto quelle da sole che vivono da sole la necessità magari di avere eh in qualche modo di trovare in rete un una una persona normodotata un vedente non so per con le cose più eh pragmatiche più normali non so leggere una confezione di 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 leggere leggere il contenuto di una confezione piuttosto che eh piuttosto che eh piuttosto che eh eseguire diciamo quelle operazioni quotidiane dove effettivamente la vista è fondamentale ed è essenziale quindi nata come comunità in qualche modo di autoaiuto eh una diciamo quindi una comunità di autoaiuto nasce con questo scopo inizialmente e dopo poi con l'avvento di chat CPT insomma eh tutti i modelli di intelligenza artificiale ecco loro hanno pensato di eh sfruttare questa caratteristica per la descrizione per la descrizione delle foto eh delle foto in tempo reale eh piuttosto che delle foto contenute nella propria eh galleria fotografica del telefono e e quindi questa per esempio è un'applicazione molto interessante perché eh questa applicazione è in grado non so di descriverti eh dal dal vestito dai colori del vestito ai disegni eh sul vestito eh a per esempio non so il telecomando di un dispositivo eh piuttosto che a quello che c'è scritto eh su su una confezione su su una scatola e o sulle confezioni che ne so dalla bottiglia di vino eh al alla scatola di un cellulare alla confezione di un cellulare ecco per esempio questo è è un ambito molto interessante e c'era già qualcosa di simile però per la descrizione degli scenari erano descrizioni insomma piuttosto povere eh parlo di Singai eh che è un'altra applicazione eh supportata in questo caso da Microsoft non creata da Microsoft però insomma supportata da Microsoft e e già per la lettura dei testi è un'applicazione eh fenomenale ma per la descrizione degli scenari ecco mh era un'applicazione un po povera invece con Be My Eyes secondo me si è fatto un salto di qualità e sull'onda diciamo di questa eh sull'onda diciamo così di questa applicazione poi ne ne stanno nascendo altre ne sono nate altre che si propongono un po' i medesimi obiettivi eh per cui staremo a vedere diciamo è un mondo in continua evoluzione ecco poi Sauro non so se vuoi dire qualcosa di questo se no partiamo via tutto il tempo. No no eh guarda ma ehm sabato ho fatto una panoramica eh ottima io quello eh quello che magari ci tengo a dire è che sono strumenti preziosi assolutamente preziosi vanno utilizzati ovviamente con eh un atteggiamento mi avviso di di consapevolezza su quello che si si utilizza eh ovviamente possono eh diciamo non sono ovviamente senti dei errori ma eh sono strumenti comunque preziosi che hanno nettamente aumentato la l'autonomia delle persone eh in questo caso con disabilità visiva. Assolutamente se posso concludere visto che la domanda chiedeva anche quali sono i futuri possiamo prevedere rispetto agli attuali metodi e linee guida. Linee guida un tema di cui si sta parlando che alcuni chiedono sono le VCAG 3.0. Ora ve lo dico da persona che ci sta lavorando in teoria in questo momento dovevo essere nel working group c'era la riunione in contemporanea e il concetto è non sono ancora un riferimento quindi se volete leggere i lavori che stiamo facendo potete leggerli ma non prendetele come riferimento e lì stiamo parlando proprio anche del tema dell'intelligenza artificiale perché le VCAG 3.0 non sono più web content accessibility quindi non sono più linee guida di accessibilità di contenuti ma sono V3C accessibility guideline linee guida di accessibilità del V3C che vanno oltre il contenuto web vanno nei sistemi di produzione di contenuti e quindi anche in quel caso prendendo spunto da qui da cose che vengono già fatte dal mercato se uno strumento automatizzato mi genera un testo alternativo per un'immagine io devo sapere che quel testo alternativo è generato da una macchina non da un essere umano in modo che posso avere il dubbio che il testo generato non sia effettivamente coerente quindi è una garanzia anche per chi utilizza questi strumenti ma è una garanzia anche per l'utente un po quello che usando le tecnologie assistive quando utilizzate lo screen reader ad esempio ora anche su android ma è nato prima in ambito ios quando non identificavo un'immagine con testo alternativo e il lettore di schermo ipotizza la presenza di testo ipotizza la funzione dell'oggetto possibile pulsante di ricerca però sono sempre ipotesi quindi ricordiamoci bene che la macchina ci potrà essere da ausilio ma in alcune cose non dobbiamo dire non ci pensiamo più tanto prima o poi ci penserà la macchina perché noi dobbiamo sviluppare applicando le regole sì infatti l'esempio è facebook infatti che ha detto sabato ok quindi questa domanda abbiamo risposto poi un paio di di domande che chiedono se pubblicheremo le slide io penso che i relatori non abbiano reticenza a renderle disponibili le pubblicheremo presumibilmente o nel sito iu o nel sito assessibili dei comunque lo comunicheremo tramite email a chi si è registrato o metteremo comunque nella pagina youtube dove c'era il video il link anche il riferimento a dove troverete queste slide poi una domanda riguardo alle vcag dovendosi formare ora da zero meglio studiare quelli in vigore 21 o meglio farlo direttamente sulle 22 qui non so se vuol rispondere fabrizio cioè potrei rispondere anch'io ho visto che vcag che le sto scrivendo diciamo quindi diciamo che tecnicamente il mio consiglio è di usare le 2.2 perché comunque vanno ad arricchire alcuni punti nove nuovi criteri da verificare se vogliamo applicare tutti i livelli di accessibilità oppure sei nuovi criteri se vogliamo applicare solamente quelli che saranno obbligatori per legge che comunque vanno a migliorare l'utilizzo l'interazione delle dell'interfaccia e soprattutto visto che prima si è fatto l'esempio sabato l'ambito bancario i sistemi di autenticazione che sono un problema non da poco per cui il suggerimento è studiate le vcag 2.2 e applicatele già quando le potete applicare poi non so se fabrizio se michela se sai ma voglio aggiungere qualcosa su questo mi sembra lampante insomma assolutamente roberto volevo confermarti questa cosa anche perché questa mattina con un collega stavo proprio vedendo come un sistema di autenticazione proposto da un istituto bancario e attualmente fosse già non compliance rispetto alle 2.2 perché per esempio non permette la copia dell'otp e quindi sono problemi veramente strutturali che vanno affrontati e non si può aspettare giugno prossimo quando le 2.2 saranno ufficialmente normativa anche se sono specifica effettiva cioè oggi si possono utilizzare è che molti pensano che c'è il vincolo della norma tecnica che parla delle 2.1 ma essendo retrocompatibili vanno utilizzate le 2.2 quindi se siete anche dei committenti iniziate a chiedere lo sviluppo 2.2 una domanda un po più tecnica a proposito dello sviluppo quindi fabrizio questo penso sia per te quanto i tanto usati software low code non consentono di produrre per ragione di tempi e costi l'accessibilità oppure anche questi software ultimamente si stanno munendo di funzionalità che consentono di introdurre il codice accessibile e grazie mille ringrazia già per la risposta quindi dunque è già il concetto di low code è un concetto abbastanza diciamo ambiguo perché da un certo punto di vista è comodo giustamente per piccoli progetti perché si ha la possibilità di fare cose con non solo low code ma spesso è low cost però è una cessione di fiducia al buio nel senso che devi ti stai mettendo nelle mani di qualcun altro che dichiara di aver fatto qualcosa in un certo modo e quindi il low cost a mio avviso il low code è interessante se si conosce bene però la piattaforma e le sue caratteristiche ma potrebbe essere un potenziale rischio proprio se la si usa nella inconsapevolezza e devo dire che però è anche vero che attualmente tutte le piattaforme si stanno muovendo verso l'accessibilità roberto poi lo stiamo no vedendo un po in tutti gli ambiti no dicava il tema accessibilità sta diventando un tema di compliance complessivo insieme alla sicurezza alla privacy no quindi non credo che in futuro qualche piattaforma possa rimanere al di fuori di questo perimetro però per esempio alcune piattaforme basate low code basate su criteri di sviluppo un po antiquati siano tutt'oggi molto inaccessibili e quindi bisogna veramente saper scegliere nel come dice prima tu anche roberto nella tua sessione non basta saper fare copy in colla bene una domanda per simon visto che l'ha citata lui come viene definita l'accessibilità in uso sulla iso 300 71 e cosa cambia con l'accessibilità tecnica non mi è chiaro ok allora diciamo che l'accessibilità in uso è un po una un'invenzione un neologismo che non non si trova in giro perché la iso 30 mila 71 ci dice che l'esperienza dell'accessibilità in realtà è definito da tre dimensioni cioè l'accessibilità tecnica dunque il rispetto degli standard ok o le norme tecniche o gli standard dunque la norma europea per esempio la n 301 549 o le vcag che sono state già citate e poi aggiunge efficacia efficienza e terzo soddisfazione ma chi conosce un po la normativa e chi diciamo ha un po di esperienza anche metodologica sul mondo della qualità dell'esperienza sa benissimo che efficacia efficienza e soddisfazione sono le tre dimensioni di che cosa dell'usabilità e dunque questo è il motivo per cui ho semplificato la definizione dell'iso citando l'accessibilità tecnica e l'accessibilità in uso però qual è la differenza la differenza volendo rendere pratica e che nel momento in cui io realizzo un sistema che è tecnicamente accessibile faceva l'esempio secondo me molto calzante sabato prima io posso dire che è tecnicamente accessibile ma non so quanto sarà facile da usare no è come se un 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 web accessibility expert viene da me e mi dice ok guarda ho verificato il sistema effettivamente rispetta tutti e 50 i criteri a e doppia del criterio di successo delle vcag se io chiedo a quell'esperto e gli dico bene mi dici secondo te se lo faccio a usare a 10 persone quante di queste 10 persone riescono a aggiungere il prodotto al carrello quanto tempo ci mettono e se gli faccio una domanda a queste persone quante di queste persone mi daranno un rating da 1 a 7 di soddisfazione superiore al 6 bene quell'esperto di accessibilità non me lo sa dire perché per sapere qual è la qualità dell'esperienza che le persone hanno con il sistema guarda un po devo coinvolgere le persone devo effettivamente farglielo utilizzare dunque la differenza sostanzialmente tra la parte tecnica e quella in uso e che la parte tecnica la posso verificare in maniera esperta verificando se sono soddisfatti dei criteri di successo o altri requisiti mentre quella in uso la devo vedere in uso perfetto ottimo allora e passo un attimo su youtube poi torno alle domande che ci sono di qui allora esiste un documento uno strumento standard da utilizzare nel caso in cui un designer voglia indicare l'ordine corretto del focus nei reamenti una pagina e michela c'è il tuo nome sopra questa questa domanda quindi penso che tocca a te grazie tra l'altro una domanda molto interessante perché diciamo lo strumento principale è buonsenso poi possiamo supportare il design ad esempio utilizzando dei plugin che ci consentono di determinare quest'ordine del focus in base a come pensiamo debba muoversi l'utente quindi non c'è un automatismo però possiamo utilizzare dei plugin che ci consentono ad esempio su figma sono diversi che ci consentono anche di poter comunicare interagire con lo sviluppo quindi evitare di delegare la patata bollente diciamo al team sviluppo e poter intercettare fin dalle primissime fasi del design quelle che possono essere delle problemi o determinare delle scelte fin dal principio ok un'altra domanda che sta bene per te quindi anche questa c'è il nome michela sopra le linee guida relativi a design e sviluppo possono essere stese anche lo sviluppo design di ad esempio email beh ci sono anche delle linee guida sì sicuramente poi diciamo che ci sono anche le linee guida per gli authority in tool quindi anche le atag direi infatti infatti alla fine poi comunque la base sono sempre le vcag declinate in modo differente quindi abbiamo sempre quel riferimento poi rispondo a una domanda tecnica ci chiedono se il video sarà reso disponibile dopo sul canale youtube assolutamente sì avrete sia il video completo e sia grazie al nostro chrissa la potente regia che sta dietro questo evento avrete come avviene già per accessibility day lo spezzettamento dei singoli interventi dei singoli blocchi quindi potete avere quindi il reference diretto il riferimento diretto magari all'argomento che vi può interessare poi ritorno a una delle domande top che compaiono sempre in questi eventi come si calcola la conformità delle pagine web o in generale comunque la conformità rispetto alla norma tecnica allora qui partiamo da un da un discorso di base la norma tecnica stabilisce il concetto di conformità per la norma tecnica si è o conformi o non conformi poi abbiamo un bellissimo tono di grigio che va dal grigio scuro a quasi bianco e è ciò che si è inventato l'europa ossia il parzialmente conforme il parzialmente conforme significa come da definizione inserita dalla dagli atti esecutivi poi ricepita anche da azze stessa che comunque ho soddisfatto la maggior parte dei criteri oggetto di verifica e in questo caso nasce il problema di capire ma i non applicabili come vengono considerati e questo è scritto sulla norma tecnica nel capitolo 9 e anticipazione verrà esteso anche agli altri capitoli proprio per avere una certezza di interpretazione univoca in ambito di applicazione a livello europeo è spiegato chiaro che ci si basa sul concetto sul concetto di soddisfacimento del criterio di successo che non è inventato da norma tecnica definito dentro le wcag soddisfare un criterio di successo significa che il criterio non è violato ossia è stata superata la verifica pertanto quelli che sono considerati non applicabili a seguito di verifica tecnica fanno diciamo conteggio assieme a quelli superati infatti quando si verifica vanno contati gli errori le violazioni però questo ripeto è il concetto di conformità quindi sarà parzialmente conforme quando avremo che la maggior parte diciamo dei criteri non è violata quindi dovete leggerla al contrario per capirla nel modo corretto in cui sono applicate le wcag poi anche qui attenzione perché è un tema che discutiamo sempre quando facciamo le verifiche con fabrizio con michela coinvolgiamo simon sauro il peso dell'errore quando ci dicono quanto pesa l'errore a parte che la battuta che facciamo è non sono un fruttivendolo non peso gli errori quindi il problema il problema di base essenzialmente è che invece dobbiamo trovare un metodo di pesatura ma non può essere oggettivo sarà sempre soggettivo perché un errore di un testo alternativo l'esempio che facciamo sempre di un'immagine decorativa è una violazione è un criterio di successo violato il 9.1.1.1.1 oppure l'1.1.1.1 delle wcag se ed è un errore è un errore sia che immagine decorativa non valorizzata sia che è un testo non perfettamente corretto come testo alternativo ma è come si dice sempre è un errore grave se è un testo non corretto o assente se mi impedisce di svolgere un'azione un pulsante un'informazione importante sulla tipologia di prodotto io devo avere un testo alternativo corretto quindi capite che va pesato in modo diverso così come l'uso con la tastiera o meno anche lì dipende quanto è bloccante se non riesco a raggiungere i pulsanti social è un errore ma è diverso da non consentirmi di usare il menu principale di navigazione vedo che simon vuole intervenire quindi lascio a simon la la completezza dell'informazione come si dice si volevo aggiungere solo una cosa roberto visto che prima si chiedeva no differenza tra accessibilità tecnica accessibilità in uso questo è esattamente un esempio di punto d'incontro anche rispetto alle competenze di cui parlavamo prima cioè un esperto di accessibilità no non si deve preoccupare solo del livello di conformità ok della conformità ma poi del concetto di utilità e dunque per lavorare su quello fondamentalmente devi cercare di capire quella non conformità che io sto rilevando ma che impatto potenziale può avere per la persona che dovrà usare quel sistema perché potenziale per il motivo che dicevo prima che io ovviamente non lo posso sapere finché non coinvolgo una persona a interagire con il sistema però la valutazione della non conformità è esattamente il punto di contatto tra i due mondi quello tecnico e quello esperienziale è una di quelle competenze molto importante che un accessibilità expert per esempio deve sicuramente sviluppare assolutamente se c'è qualcun altro che vuole aggiungere altrimenti passiamo a una domanda successiva una cosa roberto che volevo aggiungere su questo no lo dico perché spesso quando si fa consulenza nel mondo del diciamo così lo sviluppo la domanda prende anche un'altra forma ossia quanto è importa quanto è problematico risolve quanto pesa questa risoluzione del problema nel processo di sviluppo è una domanda che va calata nel contesto di sviluppo insieme al gruppo di sviluppo faccio un esempio per tutti lato nostro lato un esaminato insomma un analizzatore cambiare il css con un s decimale di un colore può sembrare una banalità assoluta magari quel cambio implica scenari tecnologici perché magari quel colore è determinato da una libreria che per sostituirla è diventa un effort molto importante e quel colore magari determina scelte di business perché è un colore dominante nella sfera della comunicazione dell'organizzazione quindi quant'è importante quella violazione per chi per gli utenti per chi fa sviluppo per il costo per quindi quando si chiede una valutazione del livello di di violazione sono si apre veramente uno scenario di possibilità assolutamente bene con vediamo altre domande a cui rispondere allora poi ce n'è una sulle app dell'orientamento ma la pongo dopo a sauro e a sabato allora ci ringraziano per il webinar chiedono in merito all'obbligo diciamo di fare i servizi accessibili per le aziende che fatturano sopra i 500 milioni di euro non riesco a capire se si fa riferimento anche all'accessibilità cognitiva allora in questo ambito le WCAG hanno alcuni punti legati all'accessibilità cognitiva ma non vanno a coprire chiaramente il 100% dei casi perché a livello internazionale le WCAG per chi le conosce sa che sono fatte in tre livelli livello A livello AA livello AAA alcuni punti cognitivi sono AAA altri sono stati inseriti con le WCAG 2.2 legati proprio all'autenticazione sono nuovi criteri che aiutano chi ha difficoltà cognitive però il problema qual è che tendenzialmente si è scelto a livello internazionale livello AA per cui tutti i criteri di livello AAA sono suggeriti ma non sono obbligatori noi in questo momento stiamo facendo un servizio anzi Carmen e la collega ci stanno erogando un servizio di lease che non è obbligatorio per le WCAG se io ho dei video pre-registrati dentro un sito non ho l'obbligo di avere l'interprete lease perché è un livello AAA ma il concetto qual è se io voglio garantire una maggiore inclusione di diverse tipologie ed esigenze di persone con disabilità dovrò usare anche queste caratteristiche la legge non mi obbliga ma dovrò incrementare l'accessibilità e quindi nel caso del lease se vado a utilizzare il lease le WCAG mi dicono come deve essere fatto per essere fatto in modo accessibile quindi le regole ci sono anche per la parte cognitiva anche se per la parte cognitiva il V36 sta definendo ulteriori documenti di supporto perché l'ambito delle difficoltà e disabilità perché separiamo anche questa una cosa la disabilità cognitiva e una cosa è la difficoltà cognitiva su questo Fabrizio se dopo vuoi aggiungere qualcosa relativamente al tema dislessia è chiaro che le WCAG lo dicono chiaramente non possiamo garantire una copertura del 100% però ad oggi abbiamo delle tecniche e delle regole che comunque ci consentono di incrementare l'accessibilità anche per chi ha disabilità o difficoltà cognitiva Sì ne approfitto Rob per ricordare che spesso si confonde la disabilità con la disabilità certificata non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è titolo da nessuna parte nelle WCAG nei nostri ragionamenti che bisogna considerare le disabilità certificate quella è una cosa che riguarda diciamo i processi di certificazione dello Stato no? La disabilità è qualcosa che può essere anche temporanea può essere uno Stato anche borderline che non rientra nelle disabilità riconosciute una per esempio sono le persone con ipovisione non tutte sono rientrano nell'ambito delle persone con disabilità vuol dire banalmente tutti i severi miopi io compreso non rientriamo nella sfera delle disabilità ufficiali però siamo in una condizione non ottimale così come le persone con dislessia come dicevi tu non fanno parte nella sfera delle persone con disabilità ma sono persone che hanno problemi nell'accesso al contenuto quindi la sfera del borderline è veramente molto estesa non a caso quando diciamo chi coinvolge l'accessibilità qualche volta spariamo un po' delle percentuali un po' a caso sono a caso perché non hanno un vero fondamento però quando diciamo coinvolgono più o meno il 40 al 60 per cento degli utenti sì sono sparati un po' a caso ma è più o meno vero perché l'accessibilità riguarda una moltissime persone anche se non sono ufficialmente comprese in delle catalogazioni assolutamente andiamo avanti allora diversi fanno i complimenti e poi c'è una domanda che la sintetizzo perché è molto lunga la domanda è se io progetto secondo vcar 2.2 faccio il prototipo secondo vcar 2.2 lo sviluppo secondo vcar 2.2 poi faccio il test automatico cosa determina se il sito è accessibile quello che vuole in sintesi capire è cosa mi fa dire che il sito che ho fatto è accessibile vedo vedo un po' di a chi lo chiedi a fabrizio allora allora posso 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 iniziare io poi poi ti lascio allora il concetto è bene sviluppare prototipare vcar 2.2 a fare il sito secondo 2.2 ora innanzitutto il test automatico l'abbiamo già detto prima non è sufficiente per garantire il concetto di accessibilità nella domanda dice in che modo il sito può essere tra virgolette certificato come accessibile ecco è giusto metterlo tra virgolette perché non esiste una certificazione di accessibilità di siti e di app esiste la norma tecnica si si può ispirare e definire una metodologia di verifica perché attualmente abbiamo una metodologia di verifica per i siti di repubblica amministrazioni c'è qualcosa per il privato fatta da agil ma non c'è nulla a livello di normazione tecnica e in questo panel ci sono alcune persone che con me stanno lavorando all'interno dell'ente di normazione per definire proprio una metodologia tecnica di verifica ecco in quel caso probabilmente in futuro ci potrà essere una certificazione anche se la nostra idea non è di certificare la verifica di accessibilità ma certificare il processo e visto che simon fa sì con la testa lascio la palla a simon visto che è uno degli autori di queste parti del documento si spiego giusto perché la scelta cioè il ragionamento che stiamo facendo su prodotto e processo mi permette di introdurre un'altra cosa che forse non abbiamo detto direttamente che riguarda l'accessibilità e cioè quando parliamo di accessibilità noi parliamo fondamentalmente di qualità e dunque nel momento in cui sto parlando di qualità la certificazione non deve tanto riguardare il singolo prodotto soprattutto quando parliamo del mondo digitale che è liquido no fluido per definizione cioè un sistema è un secondo in un modo magari l'ho verificato mi sembra apposto il secondo dopo mi ritrovo davanti una cosa completamente diversa dunque è molto difficile certificare un sistema digitale che in continua evoluzione mentre invece quello che si può fare è certificare il processo di qualità che viene adottato per immaginare no realizzare e manutenere quel sistema in modo che sia un processo di qualità in termini di accessibilità per esempio la iso 30 mila 71 che citavo prima è una norma che guarda molto no al all'approccio che adotto per avere dei sistemi di qualità in termini di accessibilità a 360 gradi ecco ma aggiungerei questo assolutamente ok poi altre altre domande ora questa se la possono giocare tra sabato e sauro parla nel caso di un'app per l'ausilio all'orientamento tipo maps di google come si può fare un buon lavoro anche sul piano dell'accessibilità prevedendo specifiche interfacce al posto della mappa sauro allora inizio inizio io poi magari se se puoi completare mi fa piacere allora per quanto riguarda l'accessibilità dell'app in sé intanto sono accessibili sono accessibili se parliamo nell'utilizzo dell'app stessa ci sono delle app che permettono in qualche modo di simulare l'esplorazione della mappa utilizzando anche dei feedback di tipo audio per far capire le varie zone quant'altro certo è che comunque io porto sempre questa diciamo come riflessione tenendo conto che se parliamo di un orientamento ovviamente parliamo di un momento orientamento prevalentemente a piedi no quindi tenendo conto che l'utente utilizza il bastone bianco per spostarsi o il cane guida e il il gps comunque ha una risoluzione che non è sufficientemente dettagliata per darti una garanzia ottimale sul percorso ma detto questo possono essere comunque strumenti che vanno a migliorare la l'autonomia per ad esempio studiarsi un percorso per analizzarlo quindi non tanto in fase di navigazione quanto magari in fase di studio per comprendere il percorso a piedi ad esempio la stessa app google maps se noi andiamo in indicazioni e impostiamo la modalità a piedi abbiamo un dettaglio di tutte le indicazioni ripeto poi vanno sempre utilizzate con il buon senso con diciamo tenendo conto che possono commettere errori e quant'altro per il resto sono strumenti a mio avviso che possono sicuramente aumentare l'autonomia non so sabato puoi aggiungere vuoi aggiungere mi fa piacere beh assolutamente nulla sauro direi che secondo me sei stato esauriente e oltretutto c'è quando si utilizzano queste app già in fase di installazione c'è sempre un disclaimer che sta a indicare che non bisogna mai fare affidamento totalmente sul sul diciamo sui sistemi di navigazione per una questione evidentemente insomma di limiti della tecnologia in questo caso insomma limite del gps per cui affidarsi totalmente a un sistema del genere non 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 porta buoni frutti anzi può rischiare si possono rischiare anche danni evidentemente per cui sì per una persona che sa orientarsi e sa muoversi l'utilizzo di queste atto può essere soprattutto in fase di studio preventivo del percorso da fare da svolgere e poi farsi aiutare man mano che si naviga man mano che si va però ecco non bisogna affidarsi totalmente a queste a queste app ancorché perfette e accessibili dal punto di vista dell'interfaccia però diciamo che i risultati che danno eh possono come dire in qualche modo essere anche forvianti per esempio una città come Bologna che è una città con strade piccole portici e quant'altro ecco il gps è messo a durissima prova per cui tutti quelli che vengono approvare dei sistemi qui a Bologna quando ci contattano come invato e tutto quanto insomma noi mostriamo come eh come dire possono essere mendaci delle volte insomma delle delle un bel ambiente di test esatto esattamente ma guarda l'ambiente di test potrebbe essere venezia solo che sarebbe più pericoloso secondo me da testare lì lì andrebbero messi dei sensori di prossimità più che basarsi sul gps c'è degli iot degli oggetti intelligenti che ti segnalano la posizione allora potrebbe essere potrebbe essere utile sì sì sarebbe una discussione che potremmo fare visto visto infatti che ci chiedono se faremo altri eventi del genere potremmo fare degli eventi specifici per tematiche sauro penso sia contento come anche anche a questi passaggi mi temi molto dove c'è spazio per come diceva sabato l'argomento può essere estremamente vasto però ben venga a parlarne parlarne in modo approfondito ok un altro paio di risposte a delle domande e ci chiedono eventuali corsi di formazione per design corsi suggerimenti di corsi ma noi qui non vogliamo fare traverte marchette commerciali ad aziende cose varie e ce ne sono il consiglio identificate quelli che si basano comunque sulle norme tecniche perché le norme tecniche ve l'ho descritta all'inizio io definiscono i profili e i profili all'interno hanno l'accessibilità consultati i programmi formativi se trovate corsi di designer di developer dove non compare minimamente la parola accessibilità io passerei al corso successivo chiaramente lo salterei a piedi pari perché ripeto vero che non deve essere magari l'argomento predominante ma l'accessibilità deve essere citata e deve essere chiaramente inserita in modo intelligente perché come aveva spiegato prima fabrizio e michela lì è se devo implementare un design devo conoscere le regole di accessibilità applicabili al design se devo creare un pulsante devo sapere che codice inserire conoscendo anche why area e tutte le tematiche legate accessibilità non è che faccio il modulino a parte di accessibilità deve essere integrato nel percorso formativo e quindi con questo abbiamo risposto a questa tematica poi c'è una domanda che non mi è chiara se qualcuno di voi riesce a comprenderla eventualmente a dare una risposta quali potrebbero essere gli scenari relativi al content in particolare il visual content utilizzato sui social media parlando ad esempio di advertising se l'ho compresa bene come può funzionare il tema dell'accessibilità relativo al mondo della pubblicità online probabilmente ciao roba sempre sono michela se parliamo di social alla fine qualche anno fa chiaramente le piattaforme social non erano preparate l'accessibilità col passare del tempo si stanno adeguando anche queste quindi direi che anche fini di business pensare la l'advertising che sia above the line quindi tutto quello che va pubblicato esempio online va ragionato anche in quest'ottica chiaro se questa è la domanda presumo sia quella il content chiaramente è una parte essenziale quindi la parte testuale del messaggio per intenderci le call to action i collegamenti chiaramente riguardano tutta quella sfera del content che come un po' abbiamo osservato nell'arco di questa chiacchierata insomma una parte essenziale della del design insieme alla user experience la parte ui quindi e sono coinvolti anche content chiaramente nel nell'accessibilità ok grazie michela e poi c'è una domanda anche questa ricorrente sull'onere sproporzionato praticamente viene chiesto ok dice che l'agid approfondisce stabilendo che deve essere basato su motivazioni legittime ma in base a cosa si stabiliscono cosa vieta ad un'azienda di avvalersi della motivazione di un onere sproporzionato per non curare l'accessibilità beh lo vieta la legge stessa che dice che non deve essere motivazione per non applicarla ai siti web e alle app mobile chiaramente anche qui va valutato caso per caso perché ci potrebbe essere la necessità ad esempio l'esempio che facciamo sempre delle app la rotazione dello schermo che significa fare un redesign completo dell'applicazione e magari attualmente il costo supera il beneficio ossia riprogettare completamente un'app può portare un costo altamente elevato e non diciamo utile alla risoluzione delle problematiche il concetto di base però non deve essere una scusa non faccio quello non faccio nemmeno il resto quindi accessibilità deve essere ripeto vista sia come dice la legge degli obblighi da applicare ma anche in ottica di buon senso di qualità come diceva Simon prima ossia il concetto per cui devo fare piccoli miglioramenti continui facendo attenzione se ci dicessero che non ci curano perché curare il nostro tumore costa troppo come risponderemmo noi? questa cosa mi fa arrabbiare molto e chiedo scusa ma infatti io volevo lasciarti la parola proprio perché so che è una cosa che giustamente ti arrabbi perché è come dire in ambito architettura non ti faccio la rampa perché mi costa troppo o rendo brutto l'ingresso del mio negozio capito? sì io credo che davvero cioè credo che certi concetti perché certi concetti già proprio come dire nel pensiero, nel filosofeggiare, nell'immaginare ecco sono concetti già come dire in qualche modo frustranti, non edificanti perché quando mi viene risposto quando mi viene detto che l'onere è sproporzionato ecco francamente cioè riduciamo l'accessibilità riduciamo una cosa seria riduciamo una cosa seria a un pallottoliere no, non ci sto infatti sono d'accordissimo anche perché mettendomi a questo punto il cappello dell'amministrazione dell'azienda e poi c'è Simon che vuole intervenire siccome è una tematica talmente viscida nel senso difficile da gestire io come azienda avrei paura di dire secondo me non è lo sproporzionato cioè queste sono cose che poi finisci veramente in tribunale con le perizie contro perizie non ne esci più Simon ti lascio la palla si è detto che il punto ovviamente il punto è quello che ha detto Sabato cioè che è proprio come dire eticamente e moralmente discutibile il concetto alla base però attenzione rispetto anche a come affrontare il tema rispetto alle linee guidaggite ricordiamoci che sono sibilline perché se io leggo con attenzione lì c'è scritto come onere organizzativo eccessivo occorre considerare la dimensione la natura giuridica e le risorse del soggetto erogatore dunque questo vuol dire che in generale qualsiasi pubblica amministrazione centrale o qualsiasi soggetto erogatore con fatturato superiore ai 500 milioni di euro non può giustificare per chi è il fatto che non ha risorse per fare qualcosa dunque questo portiamocela a casa proprio come consiglio che do io e poi il secondo è anche quando parlano di onere finanziario eccessivo mettono l'attenzione sulla proporzione tra i costi necessari e i benefici previsti dunque il fatto del numero di accessi della durata di utilizzo dunque alla fine come diceva Roberto se lo vogliamo aggiungere a quello che diceva Sabato che è il centro che non ha senso però comunque se si va a leggere con attenzione l'onere sproporzionato è veramente limitato a delle casistiche proprio specifiche e veramente facilmente individuabili dunque nel 99,9% dei casi non è applicabile Simon c'è una domanda che dice l'accomodamento ragionevole no non è l'accomodamento ragionevole perché l'accomodamento ragionevole è ti do un'alternativa al servizio al prodotto in modo che comunque puoi fruirlo mentre l'onere sproporzionato invece è proprio dire no io non lo faccio perché mi costa troppo organizzativamente mi costa troppo e quindi non lo faccio questo di fatti è stato molto criticato anche a livello europeo dalle federazioni di persone con disabilità perché è proprio dire metti quel grigio diciamo per cui vai a contenzioso legale però ripeto io sconsiglio di tenerne proprio conto cioè lavorare per migliorare quotidianamente piccoli passi continui che è diverso dal fatto che ti arriva magari il controllo dell'agido o di qualsiasi altra autorità di vigilanza si inventeranno nei prossimi anni per verificare queste tematiche tra cui forse anche Sessible EU a livello europeo ma potenzialmente il concetto è dovete dimostrare che state lavorando sull'accessibilità se arriva un verificatore e vede che non avete mai fatto verifiche tecniche avete fatto le dichiarazioni di accessibilità facendo il copy and call da quella del comune vicino ne abbiamo viste anche di queste cose con Fabrizio non avete una politica di miglioramento e se parliamo di pubblica amministrazione gli obiettivi di accessibilità sono quello migliorare costantemente di anno in anno l'accessibilità dei prodotti e dei servizi digitali se non c'è questo è chiaro che se vi trovate davanti a un giudice che non avete nessuna attenuante il giudice chiaramente vi sanziona come si deve ho detto giudice per dire agil per dire organismo di vigilanza c'è un'ultima domanda che faccio a Sauro ce la pongono su un problema di RaiPlay ci dicono che RaiPlay non fornisce i sottotitoli dei contenuti però mi dà spunto per una risposta perché dice non esistono tecnologie che generano i sottotitoli in tempo reale quindi anche per le dirette con buona approssimazione il problema è che non puoi gestire l'approssimazione con questo tipo di informazioni e contenuti devi garantire un servizio di qualità e il servizio di qualità ha un costo servono esseri umani ripeto noi oggi potevamo dire attivati i sottotitoli generati in automatico da Zoom ma siamo persone che parlano in italiano con accenti e dialetti diversi quindi alcune parole potrebbero diventare non comprensibili abbiamo usato termini in lingua inglese termini in lingua inglese con la trascrizione e riconoscimento del parlato in italiano vengono scritti in modo non comprensibile noi per quello abbiamo oggi utilizzato il servizio umano che ringraziamo perché è un lavoro non da poco quello che stanno svolgendo la stessa cosa vale anche per la LIS Connie può farmi segno di sì con la testa se è d'accordo con ciò che dico cioè è vero stanno pensando all'intelligenza artificiale per generare l'interpreti LIS ma come hanno detto anche in un ultimo meeting ho partecipato a livello europeo non possiamo ad oggi sostituire ad oggi quindi magari tra vent'anni si potrà fare tra dieci anni se sono bravi sostituire completamente l'interpretariato perché non è una trascrizione di ciò che sto dicendo ma si chiama interpretazione della lingua dei segni quindi è una cosa non è parola per parola c'è comunque un'interpretazione di ciò che viene detto Connie sei d'accordo? ok Connie è d'accordo Sauro se vuoi rispondere per il fatto della RAI allora sull'app sull'app RAI Play io do una risposta un po' approssimata nel senso che la conosco ma non la conosco benissimo lì credo che dipenda molto dal contenuto erogato se prevede la diciamo i servizi di accessibilità perché vi faccio l'esempio diretto che conosco diciamo così ecco non dico cose imprecise l'esempio diretto è quello proprio delle audiodescrizioni dove sono disponibili è possibile attivarle quindi temo che il problema di base sia proprio se in quello specifico programma il servizio è offerto o meno detto questo se posso Roberto aggiungo anche un aspetto un'esperienza diciamo diretta su quello che stavi dicendo prima cioè nel senso che i servizi automatici che utilizzano intelligenza artificiale o algoritmi simili per generare un sottotitolo per generare un contenuto con in un canale differente no si possono utilizzare come dire in mancanza di di meglio ok ma dobbiamo sempre tener conto che stiamo erogando un contenuto con cioè che è approssimato io utilizzo spesso il sistema di ossiar l'OCR per riconoscimento dei testi partendo magari da un'immagine da un pdf ma è chiaro che se ho bisogno di un documento che deve rispettare fedelmente il contenuto originale ho bisogno di conseguenza di qualcuno che mi fa una sorta di review di revisione del contenuto e questo dobbiamo renderci conto che come il sottotitolo come l'interpretariato in lingua dei segni i contenuti se sono generati automaticamente ad oggi poi vedremo in futuro ma ad oggi restano sempre qualcosa di approssimato per questo ci impegniamo ci diamo da fare per far sì che comunque i contenuti che eroghiamo sono supportati da strumenti che prevedono che possano diciamo che permettano la sottotitolazione manuale interpretariato fatto manualmente da professionisti assolutamente allora siamo fuori tempo c'è un'ultimissima domanda che la compatto la riadatto quanto inciderà l'European Accessibility Act per le piccole e medie imprese e di media dimensione che vendono servizi non e-commerce ma online ad esempio fa lead generation e comunque andrà ad impattare perché come abbiamo sempre detto anche con i colleghi l'obbligo è per le medie imprese e viene esteso anche perché lo dice il decreto di ricepimento italiano anche alle micro imprese quindi alle imprese con poco personale o comunque con poco fatturato poco chiaramente rispetto al fatturato quello che fanno le medie e grandi imprese e qual è il concetto di base è che il limite di vendere prodotti e servizi non accessibili andrà a impattare per forza anche in questi soggetti perché questi prodotti che creeranno queste micro imprese potranno essere comunque acquistati anche da grandi imprese da medie imprese da soggetti in altre parti dell'Europa e quindi dovranno garantire una conformità in termini di accessibilità non ci sono altre domande abbiamo sforato di due minuti ma con la tavola rotonda perché siete stati bravissimi nelle nelle esposizioni nei tempi nelle risposte date anche in tavola rotonda quindi io intanto a nome di IWA e di Accessible U ringrazio tutti i partecipanti che sono rimasti fino alla fine che stanno partendo gli applausi vedo a chi ci ha seguito su YouTube tutto il materiale come abbiamo detto rimarrà disponibile sul canale YouTube sia come video completo già dalla fine di questa registrazione e poi sempre grazie al supporto di Accessibility Day e del potente team che si occupa della tutta la parte dell'organizzazione eventi online con gli eventi spezzettati quindi tutti i singoli interventi più la tavola rotonda con domande e risposte questo è come diciamo sempre l'evento annuale di IWA che comunque anche questo lo inseriamo dentro lo diremo a Palmieri al giubileo dell'accessibilità tutta la serie di eventi dedicati a un anno di legge stanca perché la legge stanca come l'ho detto prima ha compiuto vent'anni quest'anno e quindi stiamo festeggiando un inizio e un continuo migliorare dell'accessibilità ci daremo altri appuntamenti tramite Accessibility Day tramite IWA la stessa Accessible EU se andate a vedere su LinkedIn ci sono eventi chiaramente in lingua inglese o comunque nelle lingue locali dei paesi europei che potete seguire di altre tematiche molto interessanti su ad esempio come gestire le emergenze come gestire in modo accessibile i trasporti gli eventi turistici e via dicendo il bello ripeto di Accessibility EU che ha dato supporto per questa sessione è proprio di voler far rete e noi oggi abbiamo dimostrato che da zero abbiamo fatto una rete una rete di persone noi che stiamo parlando voi che ci state seguendo e più siamo più ci occuperemo di accessibilità e più porteremo il seme dell'accessibilità ai professionisti che ancora oggi non sono completi quindi hanno delle carenze qualitative nella loro attività lavorativa meglio sarà il web meglio saranno i servizi e via via miglioreranno sempre e qui sabato le rosa tiro sempre le orecchie sempre con necessità che anche le associazioni di persone con disabilità segnalino le inaccessibilità direttamente ai soggetti che fanno violazione pubblica amministrazioni o soggetti privati perché deve essere purtroppo grazie al meccanismo di feedback il soggetto direttamente interessato a segnalare il problema di accessibilità e non i tecnici che sembra vogliono fare le pulci alla concorrenza è giusto che le risoluzioni vengano fatte e garantite su istanze di persone con disabilità come sfondi una porta aperta lo sai lo so benissimo grazie a tutti grazie a tutti e alla prossima puntata a questo punto e forza Italia che non è una non è politica ma è calcistica forza Italia a questo punto giusto grazie a tutti grazie grazie buona sera ciao ciao